Buongiorno! Buongiorno! Com'è? Freschetto? Bene, bene! Buongiorno! 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 Grazie a tutti. 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 Vai sempre dentro. Vai sempre dentro. Vai sempre dentro. Vai sempre dentro. Come è Stefano? Benissimo. Mi ha fidato tutti questi cosi. Preferirei andare alla fiumara? No. Un po'. Ora andiamo alla fiumara, no? Eh? Andiamo alla fiumara. Per l'amor di Dio. Guarda, vai tu, no? Mi è venuto a mente che devo fare un impegno. va bene. Ti piace? Continuiamo. Bene, bene, bene. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.